Come creare piante e sezioni da un modello 3D. Ciao sono Gabriele Mura e in questo video ti vorrei parlare di come creare appunto degli elaborati bidimensionali da un modello 3D utilizzando la fotogrammetria digitale. Prima di iniziare ti chiedo gentilmente di iscriverti al canale, di lasciare un like sotto il video e perché no anche un commento. Partiamo dunque. Questa è la vista della point cloud quindi per creare una pianta ad esempio dovrò sezionare diciamo orizzontalmente questo fabbricato che è una moschè ad esempio e quindi come prima cosa dovrò agire su quella che è la band in box o la regione che si voglia chiamare. Dunque per prima cosa vado a cambiare la vista da prospettiva a ortografica quindi tenendo premuto il tasto control posso agire sulla rotellina del mouse e ruotando verso il basso vado come puoi vedere ad ottenere la vista ortografica come ultima vista. Benissimo ora mi devo spostare nella vista laterale del modello. Per fare questo devo cliccare la combinazione di tasti control più 3 come potrei notare posso impostare i limiti di questa bounding box. Come faccio a modificarli in questo caso è rimasto in memoria quello che già ho selezionato e quindi posso impostare qua in alto l'opzione resize region. Ok quindi posso cliccare sull'estremità di questo parallelepipedo muovendomi su uno di questi pallini e quindi cliccando sul tasto shift come potrei vedere posso alzare o abbassare questa quota diciamo. Naturalmente se io imposto il velo più alto vedrò tutta la parte delle coperture come visto prima nella vista dall'alto della point cloud. Invece se io lo abbassassi andrò a tagliare esattamente al livello che desidero. Quindi in questo caso mi metto magari al livello più basso possibile prima che si tocchi il terreno e quindi in questo modo come puoi vedere verrà tagliato orizzontalmente esattamente tutto questo edificio che è una moschè in realtà. Posso iniziare diciamo il mio procedimento di ricostruzione quindi vado su workflow, seleziono build mesh e da questo pannello può utilizzare tranquillamente come origine la tip points perché nel mio caso è molto densa, come tipo di superficie l'arbitraria, numero di facce diciamo che 537.504 sono numero di facce tipiche di una mesh low poly e quindi ci sta bene anche perché così non pesa troppo per il ricalco che faremo in un secondo momento. Quindi faccio clic sul tasto ok per procedere e questo è esattamente il risultato. Posso tornare nella vista dall'alto per vedere appunto tutta la parte sezionata come puoi vedere dove si vedono i pilastri, le travi. Ora come dovrò procedere posso salvare questo modello quindi vado su file e posso esportarlo quindi faccio esporta modello. Nel mio caso il modello verrà esportato ad esempio in questa directory dove l'ho già salvato in precedenza e quindi faccio clic su salva per salvarlo e poi riceverò questa nuova finestra. Posso inserire le coordinate proiettate quindi in questo caso va benissimo anche per i programmi come Rino ad esempio che è quello che utilizzerò in questo caso per edittare diciamo questo modello tridimensionale. Proseguiamo e facciamo dopo tutto assieme sia la pianta che la sezione in Rino e quindi arrivati a questo punto torno nella vista point cloud e questa volta modifico la sezione dall'alto. Quindi come puoi vedere adesso la bonding box riguarda tutti i limiti dell'edificio invece per tagliare quindi per creare una sezione dovrò ruotare questa bonding box. Quindi faccio clic su rotate region dalla toolbar e quindi posso cliccare e posso ruotare questo riquadro. Cerco di portare questa linea esterna in maniera parallela dove vorrei effettuare appunto il taglio. Faccio di nuovo clic su resize region, clicco su un pallino, tengo premuto il tasto shift e mi porto diciamo fino ai limiti dell'edificio e invece dall'altra parte clicco sul pallino e mi porto nel punto esatto dove vorrei effettuare la sezione. Come vedete nel mio caso sto tagliando esattamente dove ci sono questi cupolotti. Dunque torniamo nella finestra di prima dove abbiamo la vista frontale quindi faccio clic sulla combinazione ctrl più 3 e questa volta invece tiriamo su i limiti della bonding box perché non ci interessa la vista pianta ma ci interessa una sezione che sia che riguardi tutta l'altezza del nostro edificio non solamente che parta da metà edificio. Torniamo dunque premendo sul tasto 7 nella vista dall'alto e come potrei vedere non è cambiato niente e anzi la nostra area è pronta per essere sviluppata. Quindi vado su workflow e clicco su build mesh e questa volta ripeto l'operazione con gli stessi parametri che ho dato prima. Come potrei notare il numero di faccia è cambiato rispetto a prima. Posso cliccare sul tasto ok per avviare anche questa procedura e continuiamo al termine. Molto bene questo è il risultato della procedura di sezionamento come potrei vedere già nella vista impianta se ho ritagliato questa fettucina e faccio clic sulla combinazione ctrl più 3 posso vedere esattamente tutta l'area che ho tagliato. Ora anche in questo caso procedo esportando quest'altro modello vado su file esporta esporta modello in sezione clicco su sezione obj. Anche in questo caso salverò sempre in coordinate proiettate rdn2008. Facciamo tutto impostato, faccio clic sul tasto ok e vado ad esportare il mio modello. Arrivati a questo punto mi sposto su rhino per procedere con la procedura di ricalco. Nuovo il modello 3d per farti vedere la ricostruzione che abbiamo fatto poc'anzi. Clicco su messa in tavola per creare gli elaborati 2d. Seleziono il modello. Clicco col tasto destro per aprire la finestra delle opzioni. Vista scelgo superiore. Cambio il nome da make 2d a pianta. Clicco su ok. Attendo il caricamento. Disattivo quella che è la vista del modello 3d. Imposto ad ogni vista l'opzione wireframe e scalò le finestre in funzione della vista corrente. Sposto la pianta facendo combaciare lo spigolo in basso a sinistra con l'origine degli assi. L'origine del sistema di coordinate XY. Rinomino il layer come ricalco e do il colore rosso. Ora sono pronto a spostare il mio modello nella destinazione 00 e ruoto seguendo i bordi del muro rispetto all'asse Y. Per far diventare il modello ortogonale agli assi XY. Ora posso procedere al ricalco tirando la prima polilinea e poi spostandola chiaramente per ricoprire tutta l'estensione trasversale dell'edificio. Ora posso copiare questa linea quindi creandomi lo spessore quindi del muro e via via posso creare anche le altre copie di linee. Qua c'è un restringimento del muro quindi aggiusto questa linea in particolare e copio dove le linee appunto sono uniformi e poi procedo a completare queste parti che sono un po' dei resti diciamo. Ma ci sono stati dei crolli sicuramente. Quindi procedo a congiungere le varie parti e a chiudere il perimetro della struttura dell'edificio traccio una linea longitudinale e adesso andrò a copiarmi anche queste travi che vengono appunto a formarsi tra pilastro e pilastro. Posso quindi spegnere la modalità 3D e vedere il ricalco che ho appena effettuato nel modello bidimensionale. Seleziono quindi i margini, vado a tagliare col comando taglia tutte le parti che sono al di fuori. Dove c'è da aggiustare a giusto. Da un punto di vista tecnico levo appunto le linee laddove si intersecano. E così facendo si verrà a creare una maglia strutturale ben definita e pulita. Devo aggiustare la parte dove c'è il restringimento e quindi taglio anche l'ultimo pezzo. Benissimo, adesso collego tutti i livelli in maniera tale che ogni segmento sia chiuso. Procedo aprendo la sezione Questa è la vista tridimensionale, sotto c'è la vista sinistra e apro la messa in tavola nuovamente. Seleziono il modello Clicco col tasso destro e si aprirà il menu contestuale. La vista sinistra va benissimo, clicco su ok. Attendo qualche istante il caricamento Rinomino questa vista che non è pianta ma in sezione. Si ho dimenticato di modificarla precedentemente. Creo un nuovo layer che si chiama Ricalco e assegno il colore rosso come di consueto a questo layer. Inizio a tracciare quindi a ricalcare tutti i margini di sezione, tutti i bordi di sezione principali tracciando l'attacco a terra con gli elementi portanti che si sviluppano verticalmente. Poi chiudo la parte del terreno e continuo a tratteggiare tutta la parte di copertura. Creando con una spline tutto questo tetto ondulato. Si tratta di una moschea quindi chiaramente il tetto ha questa conformazione tipica con dei cupolotti insomma. Vado a copiare tutti i pilastri, anche in questo caso. Soltanto la parte finale che probabilmente è crollata ha una struttura un po' diversa. Vado a creare gli archi tra due coppie di pilastri consecutivi. Vado a creare tutto il prospetto di ciò che si vede dietro e anche delle boccature degli archi che sono in secondo piano. Utilizzo per aiutarmi la linea orizzontale che mi aiuta a trovare lo stacco, il punto dove vengono eretti appunto gli archi. Quindi con tre punti posso definire tutti gli archi. Qua posso accendere e spegnere il layer e chiudo la struttura orizzontale. Procedo nuovamente con tutto il taglio tagliando tutte le porte in eccesso definendo in maniera corretta tutta la struttura. Esplodo questa parte quindi cancello le parti inutili e collego tutta la struttura come ho detto precedentemente. Taglio anche nella parte del prospetto le arcate e anche attacco a terra dei pilastri. Unisco quindi come ho fatto anche prima tutte le varie parti e completo quindi l'operazione salvando il modello. Questa è la fine di questo tutorial spero che il video ti sia piaciuto metti mi piace e iscriviti al canale e ci vediamo per il prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.